Nel studio di Abruzzo Web, Giustino Masciocco, consigliere comuna dell'Aquila di Sinistra Ecologia e Libertà, di cui è anche responsabile, bentornato. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Come programma di mandato siamo un po' indietro, però non mi lamenterei moltissimo dell'andamento di questi primi due anni di attività del centro-sinistra al governo della città. Certo, non è un periodo facile, abbiamo impattato una crisi economica molto profonda, abbiamo quasi tutto il nostro patrimonio immobiliare devastato, quindi ancora non sistemato, abbiamo difficoltà nel reperire le risorse per poter affrontare più serenemente i bilanci di previsione e dare dei connotati sociali a questi bilanci. Però purtroppo tutti quanti i comuni hanno le stesse nostre problematiche, noi abbiamo qualcosa in più perché non abbiamo un centro storico e quindi non abbiamo ancora ricostruito la nostra identità. Per il resto, certo, Sinistra Ecologia e Libertà fa da pungolo, nel senso sottolinea quali sono degli aspetti. Poi avere delle angolazioni diverse di veduta su alcuni problemi che riguardano la città non può che essere un valore. Io penso che chi si schiaccia, chi si pone schiacciato sulle prospettive sia dell'amministrazione e sia del sindaco sbagli perché credo che il compito delle forze politiche è quello di sottolineare quali possano essere degli aspetti migliorativi di una progettazione, di un programma oppure di un intervento di piano regolatore. Questo facciamo noi, lo facciamo nelle regioni di maggioranza, non ci avete mai, salvo quando si parla di progetti enormi tipo quelli del parcheggio multipiano con interrato anche il mercato di Piazza Duomo e abbiamo piacere che anche Fuxas recentemente ha detto di lasciare invariata la piazza. Ecco, salvo qualche progetto di questi veramente impattanti che abbiamo reso pubblico, cerchiamo di risolvere le problematiche all'interno delle riunioni di maggioranza. Abbiamo scritto su Abruzzo Web in una serie di articoli delle scorse settimane l'ipotesi che si chiacchiera nei corridoi dell'amministrazione e della politica noi stessi abbiamo detto fanta politica per il momento però che il sindaco dell'Aquila possa cadere, possa essere fatto cadere anzi in particolare da una maggioranza che non è proprio blindatissima diciamo così. C'è una data il 23 novembre, se cade prima Cialente può ricandidarsi, ovviamente esclusa le dimissioni volontarie, se cade dopo non potrà ricandidarsi quindi a seconda di quanto questa ipotetica caduta avverrebbe potrebbe essere o una tattica per allungare il mandato oppure un complotto tra virgolette per farlo fuori politicamente. Intanto che ne pensa lei e come si pone lei visto che è stato additato tra i vari possibili tra virgolette ribelli che potrebbero far cadere il sindaco? Ma per quanto riguarda me non ci ho mai pensato e non credo che sia un evento possibile, non vedo quale cittadino potrebbe rivoltare una coalizione di centrosinistra che di fatto sfiducia il sindaco di centrosinistra se non per problemi inerenti al programma di mandato oppure per problemi inerenti all'attività amministrativa ma dovrebbe essere talmente grave. No, io penso che sia un'ipotesi come avete detto voi di fanta politica, non c'è nessuna possibilità ma non ne vedo nemmeno l'utilità sotto il profilo politico. Come coalizione di centrosinistra invece dobbiamo cercare di applicare nel più breve tempo possibile il programma di mandato. Cioè questa è la vera sfida che noi possiamo fare perché il sindaco attuale Massimo Cialente finito il secondo mandato non si può ricandidare ma il centrosinistra dovrà continuare, mi auguro, a gestire e a governare questa nostra città visto quello che è successo negli anni dietro con il centrodestra e il governo di questa città. Quindi io mi preoccupo di questo io mi preoccupo di come poter sostituire il sindaco Massimo Cialente successivamente alla scadenza del secondo mandato per poter governare sempre come centrosinistra la nostra città. Quindi poi Cialente ha dato anche tanto alla nostra città quindi penso che debba completare il lavoro. Ecco, a tal proposito si sono già fatti alcuni nomi di possibili successori uno, Americo Di Benedetto, attuale presidente della Gran Sasso Acqua. Si è parlato anche di lei, veramente lo stesso Cialente dice ma Sciocco vuole fare le primarie alla fine del mio mandato. È vera questa cosa? Ci sta pensando? Ci penserebbe o ci penserà? Guardi, per quanto riguarda me mi si dava come partecipante alle primarie già nel 2007, poi nel 2012, adesso nel 2017 non lo so perché queste voci. Cioè nel senso che a me sta molto a cuore l'unità del centrosinistra. Io penso che come partiti politici dobbiamo porci il problema di come dare delle risposte vere intanto in questi tre anni di fine consigliatura del secondo mandato Cialente ma come proporci. Poi i destini personali non credo che possano interessare moltissimo ai cittadini. Di Benedetto le piace? Di Benedetto è un membro del Partito Democratico autorevole quindi io credo che il prossimo sindaco uscirà sicuramente dalle figlie del Partito Democratico visto anche i risultati elettorali sia delle ultime europee sia delle ultime regionali. Quindi loro hanno la forza per poter scegliere, per poter far concorrere eventualmente alle primarie perché si faranno le primarie. Non sappiamo nemmeno se ci sarà ancora la coalizione di centrosinistra. Quindi per come si sta mettendo anche la politica nazionale penso che sia molto presto fare delle previsioni. Poi io penso che sia legittimo che il Partito Democratico pensi a una successione dopo il mandato del sindaco Cialente nel costruire una persona che possa eventualmente vincere le primarie e poi vincere come diceva lei ma le secondarie che sono le elezioni. Benissimo, chiudiamo la parentesi politica. Con lei parliamo in conclusione anche di una vicenda che lei ha preso al cuore negli anni prima e immediatamente dopo il terremoto quella della Sercom, il mega capannone doveva essere un centro commerciale adesso è una cattedrale nel deserto gigantesca in estrema zona ovest del comune della città. Adesso è del comune, è stato assodato quindi con l'intervista al responsabile della struttura esproprio Antonio Gabrielli lo si è avuto spendendo 13 milioni di soldi pubblici con un documento che il suo gruppo lei aveva preparato prima del terremoto si poteva avere forse anche spendendo di meno, anzi niente. Noi studiamo bene l'allora gruppo di Sinistra Democratica insieme a Giuseppe Bernardi e noi studiamo a fondo la questione e decidemmo di presentare una delibera di iniziativa dei consiglieri che prevedesse la reintegra patrimonio comunale della struttura visto che è considerato che erano scaduti i termini della concessione di Lizia nonostante la proroga che l'allora dirigente del servizio patrimonio concesse per rivisitare tutta la situazione e il periodo di costruzione. Dopodiché ci fu il terremoto, io poi mi dimisi dopo sei mesi di assessore e allora il consiglio comunale non ritenne di voler deliberare o prendersi la responsabilità di fare una delibera che era prevista. Poi anche durante gli espropi, durante l'ubicazione del progetto case di Sassa io feci presente all'allora commissario straordinario della possibilità di poter acquisire l'immobile a patrimonio comunale senza dover spendere soldi per il pubblico esproprio. Molto probabilmente hanno ritenuto, visto e considerato la difficoltà oggettiva dicevano molto probabilmente l'avvocato del comune e anche il tecnico per non incorrere in un'eventuale causa che durasse molti anni hanno ritenuto di scendere a un accordo e pagare 13 milioni di euro. Il problema vero è che dopo aver speso 13 milioni di euro non sappiamo ancora cosa farci cioè il problema vero è questo. Ecco, che cosa ci si fa della SERCOM adesso? Ecco, lì c'è in piedi una proposta fatta dal consigliere Vittorini per quanto riguardava darlo tutto al sociale, di crearci una struttura che si rivolgesse completamente alla sociale che è diciamo in parte contraddetta da parte dell'assessore che vorrebbe fare invece un'attività diffusa di gestione dell'handicap nella nostra città oppure farci un laboratorio di imprese io mi auguro che Cialente come più volte ha detto che vorrà fare degli incubatori di impresa riesca nel suo obiettivo anche se non so dove prenderemo il rimanente denaro necessario per completare l'opera oppure per non farla depaperare ulteriormente. Questo è il vero problema, cioè noi dovremmo trovare una soluzione come d'altronde l'altra cattedrale del deserto sul Paganica che è il complesso che è rimasto lì dalla Giunta Centi noi abbiamo queste due grandi incompiute che insieme fanno quasi 20 milioni di euro e dovremmo capire chi è in grado di poterlo gestire senza pesare ancora sulle pubbliche casse cosa che non siamo più in grado perché i nostri cittadini non credo che possano sopportare un ulteriore incremento della tassazione. Grazie Giustino Masciocco Grazie a voi, è sempre un piacere.